Bella a tutti da Big Pork, eccoci qua in questa nuova gara Questa gara è stata creata da Mijia, vi lascio il suo canale in descrizione Ed è un bel Formula ASEAN Vediamo un po' di qua Già vedo un cambio wallride Andiamo, andiamo, andiamo Vediamo come sarà questa bella carrerita Belli veloci, belli veloci Allora, se non mi sbaglio ho visto un cambio wall Ci siamo Sì, siamo vivi? Grazie, grazie che mi avete aiutato a fare il cambio Oh mio Dio No, regà, quasi Chi è che ce l'ha fatta, Mijeretta? Aspettate che adesso vediamo Mio Dio, ma quanti siamo Ora tu uscite fuori, regà, fatemi fare Level ASEAN in santa pace, eh Mijeretta, rimani qua che facciamo i cambi wallride Contemporanea Oh zitti, 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 zitti Oh zitti, zitti, zitti Ok Oh mio Dio, se che suino, regà Ma che sui, andiamo, andiamo un po' di veloci Qua cosa c'è da fare? Ah no, no, ho visto, ho visto ora, ho visto ora Eh, lo sapevo Era impossibile attaccare il wallride sotto sopra, regà Non so come chiamarlo questo drift Ok, strada invertita Facciamo così Dove, 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 dove? Eh, regà, mi devo concentrare, eh Non possiamo fare questi errori È vietato Allora, però adesso siamo un bel primo Facciamo così Ok Teoricamente siamo vivi? Sì Sì Sì, 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 sì Tutto Ok, mi sembra Sì, sì Sembra di sì, nemmeno io so che stavo lì Magari rimettiamo la visuale classica Possiamo andare Cosa c'è qui? Ah, F1 Questa gara È sia F1 che XA21 Che è successo? No, 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 niente Possiamo proseguire Ah, c'è pure il tuo Poi andiamo Belli veloci Cosa abbiamo qua di bello? Aspettate Sì, così Forse Sì, sì, sì Tutto ok La freccia indicava giù e non capivo Però ho visto col wallride staccato E siccome questo trick l'ho già fatto con l'XA21 E vi assicuro che con la F1 È veramente facile Oh, guardate qua Qua mi trollo, eh Eh, qui non è facile Mio Dio, speriamo che non rimaniamo trollati, eh Questa parte l'ho messa pure nella gara mia Però Ero rimasto trollato nella mia gara Ok No, regà Sapete che ancora non riesco a fare questo trick come si deve? Il cambio wallride a 90 gradi Che sta arrivando? Tommy Andiamo, andiamo Ok No, no, regà Perdiamo tempo così Aspettate Aspettate solo un secondo Don mi sta proprio qui, credo, eh Allora Andiamo Oppiamo fare Così Di che? Ce n'è un altro Ce n'è un altro, regà Teoricamente si può attaccare pure il wallride lì Perché l'ha messo distaccato Dai, regà Non posso sbagliare Per favore Oh mio Dio Non ce l'ho io, caro idea Tommy Guardalo quanto corre Tommy, eh Tommy mi frega la prima era Ve lo dico, ve lo dico Ma la frega Tommy è bravissimo Ok Guardalo che già ce l'ha fatta Anche lui ha fatto una gara con i cambi E già ce l'ha fatta No, è cascato Io non capisco che problemi c'ho A fare il cambio verso sinistra Quello verso destra, ok Verso sinistra Nada de nada Cascato Sì Turbo non ne ho No, no Allora Ce la faremo Tranquilli Ok, regà Ho capito la tecnica, eh Potete stare tranquilli Questo è facile Perché quello no? Guardate adesso cosa fa il suono, eh Si lascia il turbo Aspettate Ci siamo conservati questo bel turbo Vedete? Possiamo fare pure così Che è cariato? Tommy Sui Che è successo? Tommy Non lo so, regà Se vivo sui Non lo so che sta a fare Andiamo, andiamo Allora Ok Oh mio dio Qua non è facile Non vorrei che sta facendo La video lezione E in più sta giocando Sembra quasi che sta facendo così, regà Allora Che sto registrando di mattina Allora Qua è da fare Un balcambietto Vuole la raid che non è così facile Aspettate Dio mio, regà Non posso fare questi errori Ok Bisogna andare piano Dopo? No Quanto tempo abbiamo perso? Non ci voglio, crede Andiamo, andiamo Cos'è qui? Oh mio dio Oh mio dio Sui Rapido, rapido, rapido Ok Siamo stati fortunati Almeno in quel cambio Ci è andata bene Sono felice Ma quanto manca a fine gara? Aspettate che adesso controlliamo Allora Qui stiamo alti Che dite Ce la possiamo fare? Sì Ok Mio dio Ci siamo E poi Ah, F1 Non ci vedo niente Ok Ci siamo Oh mio dio Sto quasi a casca Sì, qua Container Ci siamo Ci siamo Lì abbiamo dei cambi Wallerite Sì, sì Quanto manca a fine gara? Non lo so Ok Ehi, ehi Un altro giro No, no, no Abbiamo sbagliato A cambiare Wallerite Sta registrando Sì, sì Oddio, oddio Belli per uscire Allora E Raga Questo è un tipo di cambio Wallerite Che fa affatto alto Cioè Dobbiamo uscire Belli alti Allora Così Così Per favore Sui Per favore Due cambi Veramente Facili E non ci riesci Oh 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 Ok Va bene Non mi chiedi Dove Undici minuti Di chiare rita Dove Qua sopra E dopo di che Il check Ce lo indica Su Aspettate Qui forse Ci dobbiamo Rigirare Sì Ah ok C'è il Wallerite Andiamo Belli Tranquilli E non uscire fuori Dal Wallerite Qua sui Oh Bella miniatura Ce la spariamo? Sì, sì Andiamo, andiamo Andiamo Belli veloci Allora Non ho visto Quanto manca A fine gara Oh Ce la spariamo Un bel 360 Oh Fatica però Perché non c'è Tanto boost La F1 In questi dubbi Di qua Poi bisogna Attaccare Wallerite Sì Ok Facciamo così Ok Ok Andiamo Belli veloci Peccato che Non riesco a fare Un cambio Quelle parti Con la F1 Raga È veramente Un peccato Mi devo allenare Come si deve Ok Eh ci siamo Ci siamo Quasi finita la Chiare Rita Dove? Cosa è successo Raga Non lo so Non ho idea Però questo tubo Va bene Praticamente Dovevo fare il giro E entrare qui Ma noi ci siamo Entrati Non a fortuna Di più Andiamo Andiamo Vedi veloci Qui Ah la nostra Bella Primera posizione Eccola qui Non si può fare Il gestaccio No Andiamo a vedere Un po' Sti suini Che stanno A combina Qui Ma che state Da faccia Non posso Sparare Boni Come stai Raga Raga Walleride Aspettate Attacca il Walleride Sui No Ma secondo voi Si può fare Il cambio Walleride Con L'Oppressor Aspettate Aspettate Comunque abbiamo Concluso in 12 minuti Buono Buono No Non mi attacca Più il Walleride Ok Abbiamo fatti i cambi Facciamo pure Quel cambio No raga Sta scherzando Devo concludere Però non mi attacca Il Walleride Che dobbiamo Partire già Con il Walleride Ma se trovo La qualche suino Chi è Chi era Aspettate Ci mettiamo qui Guardate che suino Trollo Come si scendeva giù Ok Vai cambia Cambia Oh mio Dio Allora Dai venite qua Venite qua Tanto devono cambiare qui No Occhio Occhio Raga è pericoloso Ok Si sta abbassando Raga Questo mi colpisce Sì Andiamo Andiamoci a prendere Questa bella primera Che stava lì Bello Voluscio Rapido 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 Eccola qui La nostra bella primera Olè Comunque sia Se vi è piaciuta la gara Level Asian di Misha Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate nel mio primo canale Porkmoz E nel mio terzo canale One Pork E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella Grazie a tutti Grazie a tutti